Un saluto volevo rivolgere anche ai nostri amici della Resistenza, tra l'altro ci hanno comunicato attraverso Facebook che domani 31 luglio ci sarà un live tutto targato Resistenza, un'ora e venti di musica suonata tra ballate e insuccessi vecchi e nuovi. Quindi se siete in vacanza in Salento, da domani in grande Salento, o avete avuto la sfortuna di nascere in queste bellissime terre, non potreste davvero mancare. Appuntamento 31 luglio all'Arci Chiabba di Sandonaci in provincia di Brindisi per la Resistenza. Intanto noi siamo piombati a questo punto nel frammento radioattivo denominato My Radio Spacebook, Radiazioni, Ciccio Riccio, Camillo Fasoli in voce, lunedì 30 luglio 2012, puntata numero 1324. Grazie Camillo, resistere sempre, IRSTR, vi segnaliamo Radiazioni su Ciccio Riccio. Ciao ragazzi, resistere. Grazie a tutti.